Inizia oggi una nuova stagione insieme, sono felice di annunciarvi il rinnovo del contratto del mister Raffaele con tutto il suo staff per altri due anni, questo in un'ottica di programmazione e per continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia della nostra città. Forza Cerignola! Una naturale continuazione di quello che abbiamo intrapreso e sono molto molto contento perché nella mia idea possiamo fare veramente un percorso molto positivo nella prossima stagione. Ho l'opportunità di lavorare con una società veramente importante per questa categoria e con un gruppo squadra che mi auguro possa dare le soddisfazioni che merita tutta la città, la tifoseria, la quale mi aspetto quest'anno tanto, ma dobbiamo essere bravi, soprattutto noi, come abbiamo fatto in questi due mesi, ad entusiasmarli. Forza Cerignola!